Un bel ritrovo 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 Pensate che con la Formula Tutto è possibile La potete portare a casa Con un prezzo piccolissimo A partire da 10.950 euro Dal progetto troverete anche Vetture in questo momento Appunto introvabili Come 500 X Impronta consegne A chilometro zero Abbiamo sia delle versioni 1120 cavalli E delle versioni Anche 1630 cavalli diesel Pensate che il prezzo Anche qui piccolissimo Non vi dico il prezzo Ma vi dico la rata pensate la rata a partire da 199 euro al mese sempre con la formula tutto è possibile da progetto troverete anche di splendide 500 elettriche ne abbiamo ancora abbastanza, mi raccomando accorrete che con la formula tutto è possibile avrete veramente una rata non piccola, di più, piccolissima a partire da 199 euro al mese da progetto in corso dei nostri vetri a 141 non solo marchio Fiat Lancia ma anche marchio Jeep pensate che abbiamo ultime 8 Avengers, l'ultima rata di casa Jeep in pronta consegna chilometro zero dovete affrettarvi perché veramente sta andando a ruba è rata piccolissima, non vi dico la rata, venite a scoprirlo in concessionale che con la formula tutto è possibile, veramente la rata sarà piccolissima da progetto potete trovare anche splendide vetture Jeep Renegade in pronta consegna chilometro zero, abbiamo delle vetture mille chilometro zero longitude ma anche delle versioni limite, più accessoriate e attenzione, troverete da progetto anche vetture Compass in pronta consegna chilometro zero con la forma tutto è possibile per questa rata piccolissima a partire da 199 euro al mese da progetto troverete anche alternative al nuovo cioè vetture freschissime e con pochissimi chilometri come questa spende tipo, appena arrivate pensate abbiamo delle tipo in pronta consegna mille benzina, vari modelli ma il prezzo, il prezzo è che è importante pensate a partire da 11.900 euro con la formula tutto è possibile quando accorrete ne abbiamo tre o quattro stanno andando a ruba ne avevamo 20 in pronta consegna come avevo detto vetture anche alternative al nuovo da progetto quindi abbiamo varie vetture usate ma pari al nuovo come questa spende da 500 L appena arrivata è una macchina veramente tenuta benissimo 1.600, 105 cavalli vettura pari al nuovo attenzione al prezzo pensate 12.900 euro mi raccomando accorrete con la formula tutto è possibile avete una rata piccolissima tantissime le proposte interessanti qui da progetto vi ricordo l'indirizzo Corso Unione Sovietica 141 a Torino Sergio ricordiamo che voi siete davvero sempre aperti noi siamo sempre aperti, sempre operativi 7 giorni su 7 la domenica pensate tutto il giorno e possono andare un po' anche a scoprire quelle che sono le proposte anche sui social assolutamente siamo presenti sui social su tutti i social siamo presenti benissimo io naturalmente oltre a Sergio ci sono tutti gli altri super professionisti in grado di guidarvi nella scelta della vostra prossima vettura Sergio io ti ringrazio grazie Teresa vi aspetto numerosissimi e un saluto a tutti voi alla prossima puntata